La ricezione di Guerra, poi Polder, il Gran Muro di Jordan Larson. La ricezione di Negretti, Orro, va da Larson. Tre pare. In parte dalla diagonale stretta vincente di Jordan Larson. Larson intanto è in diagonale stretta, super attacco di Jordan Larson, ricezione di Lazic, Santos può scegliere, tanto il muro è di Larson. Togliamo la cronaca, Jordan Larson a segno. E qui la delicatezza del governatore. Trovi Cinecandi, camera la tiene su, Larson da ferma, si porta a casa il money out, Jordan Larson. E allora, Santos è imbattuta a ricezione di Dabi Schiba, camera per Larson. La palla frullata per un gran colpo per Jordan Larson. La nodola, la mano. Corolla. La dotazione è an utilizzata per hanciva il compagio nazionale dell'arbitแ gửmet di D feat. Smalleste del campo e l'euro, ma bons in pienba c'era alla challEh città di conseguenza che il mercato sindaco